In un paese che vuole dirsi civile non si vive in un territorio martoriato dall'inquinamento, non si continua ad essere esposti a sostanze pericolose, non si aspettano anni e anni per una risposta nei processi. Termina così la lettera aperta, piena di amarezza, indirizzata al Presidente della Repubblica. L'attenzione di Mattarella sul disastro ambientale di Bussi sul Tirino è richiamata da 14 cittadini, un numero di firmatari simbolico. Fu proprio 14 anni fa infatti che la prima discarica, la Tremonti, venne alla luce. L'intervento del Capo dello Stato, che anche a Capo della Magistratura, dovrebbe sbloccare un procedimento giudiziario bloccato da due anni. Nel 2019 l'allora Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo hanno intentato tramite l'Avvocatura di Stato una causa risarcitoria in sede civile presso il Tribunale dell'Aquila contro la multinazionale Edison per i reati ambientali. La Cassazione penale ha sancito la prescrizione, ma ha riconosciuto la sussistenza dei reati sia riguardo il disastro ambientale sia riguardo l'avvelenamento delle acque. E' così che il Ministero e Regione, sulla base di perizie dell'ISPRA e dell'Istituto Superiore di Sanità, hanno chiesto a Edison oltre un miliardo di euro di risarcimento. Nelle stanze della giustizia però tutto è fermo. Da due anni il giudice non si esprime su una riserva avanzata dai legali della multinazionale. E questo sebbene al tal proposito ci fu anche un'interrogazione parlamentare nel 2020 da parte della deputata Pezzopane. E a pochi giorni dalla sentenza della Cassazione, che conferma le responsabilità di Edison sulle discariche 2A e 2B, sulla questione interviene il comitato Bussi ci riguarda, che chiede che lo Stato metta in mora Edison per la lentezza nella messa in sicurezza e nella bonifica, diffidandola a procedere. Finalmente nell'estate del 2024 potremo vedere un primo lotto di circa 4 ettari bonificato, fanno sapere dal comitato. Tuttavia non possiamo nasconderci che altri lotti importanti del sito di interesse nazionale, prosegue il comunicato, si trovano a tutt'oggi senza passi concreti nella bonifica. Il riferimento è all'area industriale e alla discarica Tremonti, di cui è responsabile Edison, che sebbene sia l'origine dell'inquinamento delle falde acquifere non registra alcun progresso nella rimozione dei rifiuti tossici.